hola gente bonnet 16 marzo 2022 andiamo a vedere le operazioni di oggi sul conto di bet365 in particolar modo mi voglio soffermare sulla scommessa ed era veramente tanta roba relativa alla juventus e quindi andiamo a vedere nello specifico di cosa sto parlando eccola qui la transazione con tutti i codici che possiamo vedere e quindi fondamentalmente più trasparenza di così non so onestamente cosa fare ma di fatto in passato ho fatto vedere i miei conti con tutti i codici di transazione in pubblico ho fatto vedere conti di altri corsisti di persone che si sono affidati a me con codice di transazione e quindi la massima trasparenza da questo punto di vista perché è l'unica certezza che effettivamente quello che si mostra è realtà più di tre tiri e mezzo in porta per la juventus in juventus villarreal una bettata simile a quella di bayern monaco salisburgo di settimana scorsa più di sette tiri e mezzo in porta per il bayern monaco partita terminata 7 a 1 in questo caso purtroppo non c'è un risultato favorevole positivo per la juve il villarreal ha passato il turno vincendo 0 2 o meglio vincendo 2 a 0 a domicilio all'allianz stadium però a livello personale era una situazione veramente molto molto interessante che tra l'altro ha avuto la sua definizione in poco più di 30 minuti perché ci ha messo veramente poco la juve a tirare in porta per almeno quattro volte aveva già tirato due volte in porta nei primi dieci minuti di gioco è importante essere dinamici almeno questo è il mio parere questa è la mia opinione è importante essere dinamici nel betting e nel betting change cercando giorno per giorno di trovare le opportunità migliori non soffermandosi unicamente magari sul betting change e su modus operandi che è sempre simile nel corso del tempo cerchiamo di aprirci di essere molto dinamici e di vedere tante piccole sfumature che ci sono nel palinsesto e quindi l'andare oggi a sfruttare un'opportunità del genere vuol dire arrivare a farsi l'intera giornata con un'unica bettata con un'unica operazione farsi 72 euro in poco più di 30 minuti e non mi sembra una cosa particolarmente malvagia ovviamente non bisogna credere che sia scontato che sia facile parliamo sempre di un mondo particolare raffinato però se abbiamo le idee chiare abbiamo il giusto progetto e quindi un piano d'azione di un certo tipo nel betting e nel betting change queste sono opportunità decisamente interessanti che si possono sfruttare la parte bella che purtroppo non posso mostrare è quella relativa a bet365 spagnolo bet365 spagnolo offre la possibilità di mettere in combo quindi di fare delle combo con più voci come ad esempio i corner relativi alla juventus i cartellini gialli sventolati ad una squadra piuttosto che ad un'altra o a entrambe le squadre il numero di tiri in porta o il numero di gol è possibile con bet365 spagnolo ad esempio metterli in una combo tutte assieme e ovviamente la combo significa moltiplicare tutte le quote tra loro questo non è possibile con bet365 italia è possibile farlo con bet365 spagna a livello pubblico non lo posso mostrare per ovvie ragioni però quello che invito a fare alle persone è quello di provare a valutare magari coloro i quali sono residenti in spagna o residenti all'estero di valutare effettivamente dei bookmaker che danno questa opportunità perché ci possono essere delle occasioni delle circostanze veramente molto interessanti e molto favorevoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti